Buongiorno a tutti quanti La mia vita per la mia famiglia è stata un giorno particolare Non so se dirvi se è stato un giorno buono oppure un giorno cattivo Il tempo ce lo dirà Ma perché è stato un giorno particolare? Ieri che cos'era? Era il primo febbraio Che cosa è successo il 31 dicembre? Il 31 gennaio? Brexit La Brexit Perché da ieri sono ufficialmente sposato con un extra comunità Non vi preoccupate, non è che voglio divorziare Gianna Da questo punto è un extra comunità Ha anche il passaporto italiano Ma comunque è uscita dall'Unione Europea Dal 31 gennaio 2020 Il Re di Unione ufficialmente non fa più parte del UK Unione Europea O EU Come lo vediamo C'è un grande fermento oltre mani Sia in positivo che in negativo Per questo evento Per chi è avvotato per uscire C'è un grande aspettativo Per vedere cosa succederà Tutte le promesse elettorali che sono state fatte Come verranno attuate Un attimo Non vi voglio preoccupare Non voglio parlarvi di politica E non voglio parlarvi di politica internazionale Eppure di sovranismo Anche se Anche se Questa parola sovranista Di cui voglio parlare oggi Voglio parlare proprio Di quella parola sovranista Allora Conoscete questa parola Vero? La televisione ce l'ha detta Ce l'ha fatta Sono penso due anni Che parliamo di sovranismo Tutti i giorni E proprio perché Voi sapete Se avete visto Le mie predicazioni precedenti Che mi piace tanto L'etimologia delle parole Anche questa volta Avevo voluto fare Un bello studio Etimologico Con parole latine Greche Francesismi Il problema è uno Non è possibile Perché? Perché questa parola sovranista È nata Più o meno All'unità e più mila Prima Non c'era Soltanto nel 2018 Questa parola È stata compresa Nei vocabolari maggiori Che sono i vocabolari Negli ufficiali Per cui Treccani Devoto a il Zingale E soprattutto In un vocabolario Che è il goda Della lingua italiana È il vocabolario Della rusca Mi dai? Il primo La prima slide Questo è quello che dice Il vocabolario La definizione del vocabolario Che fa la rusca Il sovranismo Sovranismo Derivato da sovrano Con suffisso Ismo Abbastanza Logico Posizione politica Che rivendica La sovranità nazionale Di singoli stati Contrapponendosi Alle ideologie globaliste E anche Sono un sacco di cose Che non capiamo Assolutamente Io non capisco La politica E neppure Questa ridivisione Del titolo Sovranista E anche Tu potresti dirmi Sì Vabbè Marco Ma che cosa c'entra Il sovranismo Con una predicazione E richiesta Sapete che Mi dico Che noi Come colleghi Come credenti Dovemmo essere Tutti i malti sovranisti Dovemmo essere Tutti i sovranisti No Non mi sto cercando Di spingere Verso un partito Politico Piuttosto che L'altro Come Credenti Dovemmo invocare Una soltra Di Brexit E aspettarci Che le cose Cambino Perché non possiamo Rimanere Con le cose Come stanno Adesso Pensate che Stai ancora peggio Viaggio in Gran Bretagna T'ho Un bilato E il tuo Viaggio Ha serenamente Innosciuto Alla tua Sanità mentale Vero Avete ragione Se io volessi Parlarmi Di uno Stato In particolare Di una O di un Partito In particolare Se io Non mi volessi Parlare Invece Di una Vera Nazione Della Vera Nazione A cui Tu Se sei Interrente Appartiene Appartiene Perché tu pensi Di essere Americano Inglese Francese O quant'altro Ma tu Se è Per In Cristo Quale Nazione Appartiene Prima Pietro Pietro Come Gesù Cristo Agli eletti Che vivono Come forestieri Dispersi Nel Ponto Nella Galanzia Nella Cappadocia Nell'Asia E nell'Arbitinia Pietro sta scrivendo A una serie di chiese Che Stanno Dove dice Ponto Galanzia Cappadocia Nell'Asia Nell'Arbitinia Sapete dove sono Questi posti Più o meno In Turchia Tra A cavallo Tra un pochino Verso Spostati Verso la Grecia E molte Stanno In Turchia Allora Che si gli dice Pietro Voi siete Forestieri Un attimo In che senso Siete forestieri Noi siamo nati Qua Noi qua Siamo Noi in Gerusalemme Non l'abbiamo Manco mai vista Perché se tu pensi Che noi Facciamo parte Della tua Nazione No Eppure Noi siamo Qui qua E lui gli dice Voi siete di là Ma non siete Pietro Stava spiegando A persone Che non erano Ebrei E li chiama Forestieri Il greco E Paren Demos Che significa Che non sono a casa E gli dice Voi siete lì Ma voi Non siete a casa Voi vi pare Che siete a casa Ma non è fero Voi qua Siete Forestieri Per un vero Credente Dice Pietro La patria Dove vivi Non è quella Dove sei nato Dove vivi Dove forse Sarai Il sepolto La tua Vera patria È un'altra Paolo Lo spiega Filippesi 3 versetto 20 Quanto a noi La nostra Cittadinanza È nei cieli Da dove aspettiamo Anche il salvato Per Gesù Cristo Il Signore A tutto questo Che c'entra Per essere Sola Cosa voglio suggerire Di diventare Disobbedienti Alle nazioni Dove state Di rifiutare L'autorità Perché siete parte Di un'altra Di un'altra Stata Dicendo Vabbè Io qua Sono forestiero Per cui faccio Quello che Mi dice Soltanto Dio Per cui Io non Rispetto Nessuna Regola Allora Tutt'altro Boris Johnson Per esempio Che a qualcuno Piace Moltissimo Qua dentro No Ma anche no Intende A torto A ragione Riportare La sovranità Delle decisioni All'interno Del suo paese E non essere Più soggetto A quelli Che vivono Le persone Esterne Questo è il progetto Della Brexit Molto semplificato Ora Dov'è La nostra patria? Dove abbiamo detto Che è la nostra patria? C'è Con Cristo Ma A quali leggi Stiamo vedendo Noi Realmente Quando viviamo Alle leggi del cielo O alle leggi Della soliturità Dove viviamo Secondo me Noi abbiamo bisogno Come Non soltanto Come chiesa Non come simboli A una cristiana exit Delle nostre vite E tornare E fare Che Cristo Abbia la sovranità Sulle nostre vite E cosa c'è di meglio Di cambiare Quando siamo Proprio all'inizio Dell'anno Perché all'inizio Dell'anno Abbiamo passato Un mese Ma siamo ancora Nei progetti Per il 2020 Per il 2020 Così come dice Boris Johnson Lui ha in mente Spero Almeno Dei piani Per attuare Quello Che vuole Fare Ha in mente Dei piani Per fare Ciò che ha promesso Delle cose Per essere Letto Se mi leggete Noi faremo questo E usciremo Dall'Unione Europea E Ha in mente Quello che vuole Fare Ora Quello che voglio Proporvi oggi È un piano Che Vi faccia fare Quello che Cristo Vuole fare In nostra vita Non soltanto In 2020 Ma anche In tutti gli altri Periodi Per vivere Nella tua nazione Ma come Forestiero Disperso Nel Lazio Per dire Quelle parole Di Attenzione A quello che ha detto Boris Johnson Ha Dovrebbe Avere Un piano Non è che La mattina Se è Uscito Ha detto Ok Vogliamo uscire Lui perlomeno Dice Di avere Un piano Veramente Ha delle promesse Per cui Che significa Che se ci sono Le promesse Per poter Per poterle Mantenere Ci deve essere Un piano Prima Hai mai fatto Una promessa A te stesso Domani comincio La dieta Ah domani Cominciò Ma questo succede Dopo Natale Ah sì Però dal primo Di gennaio Comincio la dieta Perché c'è tutta L'altra cosa Qua davanti Eh ma Da lunedì Vado in palestra Perché non è possibile Frò il fiatone Facendo le scale Per cui no No Dammi la vita Per chi fuma Questa È l'ultimo pacchetto Lo giuro Questo Finito questo pacchetto Non ne compro più Ci sei riuscito Ci sei riuscita Qualche volta Il più delle volte Delle belle promesse Portano A delle sonore sconfitte Qual è il tuo record Quanto riesci A stare a dieta Per esempio Riesci a stare a dieta Davanti a una bellissima pizza Tipo quella Che abbiamo preso Tornando Dall'Impiterra A Civitavecchia Nella nostra vita Eh È difficile È difficile Stare a dieta Davanti a una Pizza profumata Buona Che fai La mangi E addio Perché la mia promessa Gran parte Delle promesse Delle decisioni Tu sapendo Che sono buone Per la tua vita Se pensi Di stare a dieta È perché Chiaramente Hai qualche Chilo di troppo E ho qualche problema Con colesterolo In sangue Sai che sono buone Per la tua vita Però Però Inesorabilmente Vengono Disattese Da chi? Colpa di altri? No La colpa di noi stessi Siamo noi Che disattendiamo Le nostre stesse Promesse Sapete qual è Il problema Vero Del perché Falliamo Le nostre promesse Perché non abbiamo Piano Facciamo la promessa Ma sotto Non c'è nessun tipo Piano Io ho fatto una ricerca Sull'internet Ho trovato decine Di piani Per cambiare le cose Uno L'ha fatturato Questo Mi è sembrato Interessante Perché è un Deccaro E ti dice Se tu vuoi Cambiare le cose Se tu vuoi Cambiare le cose Per raggiungere I tuoi obiettivi Devi fare Lo studiato Ovvero Primo Devi fissare Gli obiettivi Raggiungibili Secondo Essere sfidato Dagli obiettivi Avere un progetto Scritto Pensare Positivo Avere tre settimane Di disciplina Avere Indulgenza Con se stessi Comprendere Le ragioni Che impediscono Il successo Identificare Ricordarsi I mancaggi Del raggiungerli Non considerare Il successo I mesco Fitte E avere Un gruppo Di supporto Anche On Line E' buono Secondo voi Si Ma anche no Ma anche no Perché anche no Perché Vedete In questo piano Io devo fare 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 Alla fine Uno a forza di fare Ci si sta Perché In questo piano Devo fare Obbidire alle leggi E alle regole Di una società Dove vivo Quando io Non sono Parte Lo dice Pietro Lo dice Paolo Di questa società Sono forestiero A questa società Ma c'è un piano Più semplice Qualcosa che Riassuma tutto questo Senza farmi fare Questa gran fatica Di fare 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 Paolo dice Di sì Paolo dice Che c'è un piano Più 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 semplice Paolo a un certo punto Scrive due lettere A una chiesa Che ama profondamente Ma che è un bacio Un disastro Non si comportano Da persone Realmente Forestiere E persone Che stanno In uno staco E appartengono Al cielo E' la chiesa Di 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 E' Aveva una massa Di problemi Erano stati Eh Eh Saffati Ma si comportavano Come cittadini Greci All'interno Della Eh Della Della natura Eh L'uogo grea E continuavano Non costantemente A fare Quello che faceva parte Della loro Eh Società Com'è un piano Eh Con che piano Sarà Arrivato Maolo Comportatevi Così 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 Oppure Leggete tutti i giorni La 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 Bibbia Minorizzando Questo Sede I Pezzetti Leggete Questi Dieci Libri Che Ho Fatto Io Venite I miei Corsi No 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 Ha Della Della Sua Sulla Croce Punto Piano Semplicissimo Piano Semplicissimo Il piano Era Cristo È morto Per Terra Non c'era Da fare Tanto Era Da capire Che Cristo È morto Per Terra Allora Perché Sono Cristo Perché Paolo Vuole Ai morinti Ad Ai morinti Che Si ricordino Soltanto Di Cristo Perché Lui È d'accordo Con Paul Johnson Vi spiego Poi Johnson Ha detto Scusate Se semplifico Il concetto Non possiamo Venire alle Leggi Unione Europea E Contemporaneamente Fare quello Che vogliamo Noi Noi vogliamo Che le nostre Regole Noi vogliamo Che le nostre Regole Le nostre Abitudini Le nostre Leggi Siano Sovrane Rispetto A quelle Dell'Unione Europea E per questo Ce ne Questa Che l'opera Ha detto Paul Johnson Il Porta Sì Paolo Dice lo Stesso Paolo Dice lo Stesso È inutile Applicare Le regole Di cittadino Di questo Mondo E di questa Società Le regole Del tuo Mondo Quello Di essere Abitante Del Cedo E cercare Di Obbedire Sia alle Ume Sia alle Alte Tu Obbedisci Alle regole Dello Stato Prestare E obbedisci E devi Obbedire Alle regole Di Cristo E cerchi Di stare Pieni Su Stato Lo Faccio Questo Però Faccio Pure Questo Insomma Balli Tutto il giorno Facciamo Questo Sì Però Questo Lo Faccio Come Cristo E così Andiamo avanti Tutti Come Credenti Dovremmo fare Una Christian Exit Delle Nostre Vite E Essere Sovranisti Per Cristo E Per Le Suoi Leggi Cioè Far Tornare A Regnare La Legge Di Cristo In Novo Come Suo Cittadino Che cosa Significa Smettere Di Obbedire Allo Stato Fare Uno Stato Teocratico Tipo Iran Dove La Legge È Soltanto La Bibbia E Per Vedere Chi ha La Precedenza Al Bibbio Devo Leggere Un Salvo O Guardarmi O Leggermi Un Epistola Pensate Che Passa Prima Assolutamente C'è Un Modo Differente C'è Un Modo Differente Non So Che Cosa Potreste Pensare Ma Marco Io Al primo posto Della mia vita Non ne so Visto No Tu stai Sbagliando Io Cristo Ce l'ho Come primo Della mia vita Lui viene Prima del mio lavoro Lui viene Prima della mia famiglia E Prima dei miei soldi E Questo è il problema E Questo è il problema Stiamo Obedendo Alle Leggi Di Due Stati Alle Leggi Di Cristo E A Quello De Alle Leggi Di Cristo E A Quella De Lavoro Alle Leggi Di Cristo E A Quelle Delle Economia In Pratica Obediamo A una Nazione E A un'altra Nazione Qual è la Ricetta Che Paolo Ci dava Paolo Gli ha Detta Ai Corinti Io non Vengo a Spiegarti Tutto Quanto Io non Vengo a Spiegarti Tutto Io ti Dico Soltanto Una Cosa Cristo È Morto Per Te Cristo È Morto In Croce Di Te Ai Corinti Aveva Detto Anche Questo Prima Corinti 1 18 Poiché La Predicazione Della Croce È Pazzia Per Quelli Che Per 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 Noi Che Veniamo Salvatati La Potenza Di Dice Insomma Non Vi Preoccupate Se Li Vengono Fermati È Normale Ma Noi Che Apparteniamo Alla Nazione Di Cristo E Quella È Pura Potenza Lì Troviamo La Forza Per Obbedire Alle Due Leggi Assieme Ma Che Cosa Dobbiamo Ma Perché Di Voi Dobbiamo Essere Sovranisti Dobbiamo Far Regnare Una Legge Piuttosto Che Un'altra Non Dobbiamo Fare De Obbedire Alla Legge Di Cristo E Quella Della Famiglia Ma Io Devo Obbedire Alla Legge Di Cristo Dentro La mia Famiglia Devo Portare La Legge Di Cristo Dentro La mia Famiglia Devo Obbedire La Legge Di Cristo Dentro Il Il Lavoro Io Devo Portare Cristo Dentro Il Il Lavoro Assieme A Me Devo Obbedire Terno Della Mia Situazione Egonomica Perché Semplicemente Dicevano Perché Gesù È morto In croce Per te Perché L'ha Fatto Per te Per darti Questo Tipo Di Potenza Il Versetto Dice Poiché La Predicazione Della Croce È Pazzia Per Quelli Che Peniscono Ma Per Noi Che Veniamo Salvati È La Potenza Di Dio Allora Dove Trovo L'energia E Tutto Fa Perché Vabbè Sì Belle parole Tutte Quante Belle parole Però Diviene Diviene naturale Senza Sforzo Assolutamente No Applicare La Legge Di Dio Stare Attenti Ad obbedire Alla Legge Primariamente A fare Il Sovranismo Della Legge Di Dio All'interno Di Quello Che Viviamo È Una Cosa Stancante Perché Dobbiamo Essere Attenti A Quello Che Facciamo E Alla Fine Potremmo Stancarci Allora Dove Trovo L'energia Per fare Tutto Paolo Parla Di Potenza Di Dio Dice La Croce È La Potenza Di Dio Allora Che cosa Devo Fare Devo Cominciare A mettere Tutte Le roci Per Casa Oppure Porto Un bel Crocione Perché Dicendo La Potenza La Trovo Nella Croce Per Se Ho La Croce Esposta Allora C'erò Potenza Magari Qualche Croce Fa Pure Fa Pure Bene Un Simbolo La Croce È Un Simbolo Però Gesù Dice Che L'effetto Del Simbolo Non C'ha Effetto Ma Quello Che Lo Rappresenta Sì Gesù Dove Essere Stato Croce Fisto E Risotto Ha Detto Ma Riceverete Potenza Quando Lo Spirito Santo Verrà Su Di Voi E Paolo Ha Giunto Ora Colui Che può Mediante La Potenza Che opera In Noi Fare Infinitamente Di Più Di Quel Che Domandiamo Pensiamo A Lui Sia La Gloria Della Chiesa E In Cristo Gesù Per Tutte Le Tate Nei Secoli Dei Secoli Amen La Energia Che mi serve Per la mia Cristianexi Per obbedire La legge Di Cristo Dentro La società Dove Vivo E a Disposizione H24 Si chiama Spirito Santo Spirito Intimo Tu puoi Dirmi ok Ma Però Non è facile Fare Quello Che mi chiedi Io Non so Da dove Cominciare Per Infilare La legge Di Cristo In Ogni Cosa Che Che faccio Per questo C'è un Dico Sistema Colossesi 3 16 17 La Parola Di Cristo La Parola Di Cristo Dimori Tra voi Abbontantemente Qui sta Parlando Della Bibbia Sta Parlando Della Parola Di Cristo Significa Leggi La Bibbia Se Vuoi Un Piano Dettagliato Devi Leggere Come Fai Ad Avere Un Piano Se Tu Non Leggi Il Piano E Non Solo La Parola Di Cristo Ammaestratevi D'ammonitevi Consafienza Che Cosa Significa Ammaestrarsi D'ammonisi Che Per Ammaestrarsi D'ammonisi Bisogna Essere Almeno Due Perché Io Non posso Ammaestrare Ammonita Solo Marco Devi Fare Questo Sì Sì Devo Fare Questo Ah Ma Tu Non Hai Fatto Questo Dissociato Bipolare Significa Che devi Frequentare Un gruppo Di Credenti Costantemente Come Costantemente Ammaestrarsi Ammaestrate D'ammonirvi Che Cosa Significa Che È Una Cosa Reciproca Tu Non Sei Professore Lui Non È Il Professore Ma Insieme Vi Ammonite E Vi Ammaestrate Con Ogli Sabienza Cantando Addio Di Cuore Con Gratitudine Salmi Indici Indi E Cantici Spirituali E Tutto Quello Che Fa Di Parole D'opere Tutto Si Compia Nel Nome Del Signore Assù Rendendo Permesso I Grazie D'appare Allora Cosa Mi Chiedi Leggi La Parola Parla Con Altri Credenti Chiedi Consigli Ad Altri Credenti E Pensa Che Tutto Quello Che Stai Facendo Lo Stai Facendo Alla Presenza Di Cristo Questo Fa Sì Che Tu Possa Essere Questiero In Una Terra E Portare E Far Diventare Sovranista Il Messaggio Di Cristo Nella Tua Vita Tutto Bello Va Bene Dice Però Dammi Un'illustrazione Allora Ho Fatto Dei Fogliettini Che Se Nella Prossima Canto Questo E Soltanto Un Esepio Questo E Soltanto Un Esepio L'ho Preso Parvano Il Decalogo Che Dice Che Dice Internet Di Quello Che Dove Fare Ci Ho Messo Dentro Dei Merzetti Che Sono Più O Meno Coerenti E Detrasco Un Mio Tipo Di Progetto E Di Di Piano Noi Leggiamo Tutti Li Leggete Con Comodità A casa Voi andiamo Sul sito Perché Se siete Quali a scaricare Un po' Un po' Tino E qui Chiaramente C'è una riga Che serve Per il Nostro Piano Io qui Posso Suggerirmi Questo è il Piano Personale Il Mio Piano Questo è quello Che io posso Suggerirmi Non è che deve essere Per forza Uguale al Mio Di piano Però Vi dico Per esempio Devo avere Un progetto Scritto Il mondo Dice Gesù Ha detto Gesù Allora disse Se continuate Nei miei Insegnamenti Sarete davvero E dicevi Cosa significa Che il piano Scritto Ce l'ho Eccolo E allora Io dico Che La Bibbia È il progetto Di vita La Bibbia È il progetto Scritto Nella mia La mia Decisione Qual è Che ce l'ho Dicato la Bibbia Oppure Che ne so Devo considerare Devo non considerare Gli insuccessi Come sconfitte Questo è quello Che dice il mondo Paolo dice Non ci scoraggiamo Di fare il bene Perché se non ci stanchiamo Mieteremo al suo tempo Allora Se il mondo dice Che non mi devo Considerare Gli insuccessi Come sconfitte Io come crevente Dico che Cristo non mi giudica Per le mie sbagli Ma per la mia fede Allora La mia risoluzione La mia risoluzione Qual è Continuerò a pregare In vero della Bibbia A testimoniare Anche Quando Ho Peccato Questa È una cosa Che spesso Non ama Io Ho peccato Basta Non vado in chiesa Sono ipocrita Non parlo a zia Come posso io Parlare Da quello che ho fatto La schiena Devo parlare A quello di Cristo Che è ipocrita Cosa smetto di parlare Vedete che C'è un piano C'è un piano Da 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 In conclusione Ricorda Che vivi in questo mondo Ma non sei in questo mondo Se credi in Gesù Se non credi in Gesù Il mondo che ti aspetta È un mondo Dove La sovranità Il sovranismo Appartiene a chi L'ha creato Per cui Vieni in questo mondo Ti posso testimoniare Il sovranismo Che si sta Per Sii sovranista Per lui Fatelo Legnare Nella volontà Obedisce Le sue leggi Dentro Le leggi Perché Cristo È morto Per te Fermiamoci a pregare Grazie Grazie Padre Grazie Grazie Signore Gesù Perché tu Sei morto Per noi Se tu che mi hai ascoltato Sei stato colpito Sei stata rompita Da qualcosa Che hai ascoltato Oggi Prega Assieme a me In queste cose In queste cose Nel tuo cuore Signore Io voglio ricordarvi Che tu sei Morto Per me E tutto quello Che farò Da questo momento In poi Io voglio farlo Sottoponendo Alla sovranità Della tua legge Tutto quello Che sono Le leggi Di questo mondo Io voglio Mettere te Al primo Non soltanto Al primo posto Ma dentro La mia famiglia Voglio mettere te Dentro Il mio Voglio mettere te Dentro La mia economia Voglio mettere Mettere te Dentro Tutto quello Che faccio E ricordarvi Che tutto Quello Che faccio Io lo faccio Per te E perché Porti gloria A te Per questo Signore Ti prometto Di avere un piano Per adempiere A tutto questo Per essere Più presente Nella lettura Della tua parola Per essere Più presente Nella Comunione fraterna Con i miei fratelli E le mie fratelli In Cristo Per essere Più efficace Nella mia Distraudienza Come luce Del mondo Tra gli altri E tutte queste cose Te le prego Nel tuo Santo nome Signore Gesù Grazie a tutti Grazie a tutti.